E' stato pubblicato sul sito del Masaf il secondo decreto di concessione di quasi 12 milioni di euro di agevolazioni alle imprese dei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda a valere sul fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. Le imprese beneficiari della misura Macchinari e Beni Strumentali sono 564 per un contributo di oltre 11 milioni di euro a fronte di investimenti generati di circa 18 milioni di euro. Mettiamo a disposizione fondi importanti per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari, strumenti fondamentali per esaltare il valore della cucina e della pasticceria italiana, simbolo di distintività e grande eccellenza, dichiara il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Continuiamo a sostenere le imprese del settore con interventi concreti e mirati per garantire strumenti innovativi e sicuri che possano mettere in condizione tutti coloro che lavorano nella ristorazione di produrre qualità. Ad oggi sono state concesse agevolazioni ad un totale di 1.065 imprese per 22 milioni di euro di contributi a fronte di investimenti generati di circa 35 milioni di euro per l'acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli. Nelle prossime settimane verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissioni e agevolazioni in favore di ulteriori imprese e beneficiarie fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a circa 56 milioni di euro.